Musica Mi sono iscritto a diversi corsi di lingua e ho avuto difficoltà a frequentare tutte le lezioni che si sommano le già abbondanti ore in aula per la didattica del corso di laurea. È impegnativo e difficile frequentare le lezioni, soprattutto per chi come me è impegnato oltre che nello studio, nel lavoro e nello sport. Ci vorrebbero dei corsi più a misura di studente, con meno lezioni in classe e un programma di studio individuale ma assistito. Ho fatto dei corsi online e in DVD, però ho trovato che mancasse il rapporto diretto con il docente. Come abbiamo sentito dalla voce degli studenti, imparare lingue straniere è difficile ed è difficile trovare il tempo per frequentare assiduamente le lezioni e studiare con regolarità. Al CIE, al Centro Interfacoltà per l'Apprendimento Linguistico dell'Università di Trento, l'inglese si insegna anche con una nuova modalità didattica, il blended. Sentiamo nel servizio di che cosa si tratta. Al CIE, al Centro Interfacoltà per l'Apprendimento Linguistico dell'Università di Trento, viene proposta per lo studio dell'inglese una nuova metodologia didattica, il corso blended, un corso che consente di abbinare in maniera molto efficace le tradizionali lezioni in aula e lo studio individuale online. Un metodo che offre allo studente maggiore libertà nell'organizzazione dello studio, senza però rinunciare al confronto diretto con l'insegnante. Lo studente dedica lo studio online a quegli aspetti che non necessitano della presenza fisica dell'insegnante, quindi allo studio della grammatica e del vocabolario. Questo consente di concentrarsi nei momenti d'aula sugli aspetti pratici della comunicazione, sul comprendere e sul parlare inglese, diventando più sciolti nell'esprimersi e migliorando la pronuncia. Il programma per lo studio online è semplicissimo da utilizzare ed essendo interattivo consente di ricevere feedback sugli errori e di ripetere un'attività finché il progresso sembra essere acquisito. Un tutor è infine sempre a disposizione per rispondere alle domande e risolvere le eventuali difficoltà degli studenti. Luisa, tu hai frequentato al Cielo un corso di inglese in modalità blended. Quali sono secondo te i vantaggi di questo tipo di corso rispetto a un corso tradizionale? Innanzitutto puoi organizzarti meglio lo studio, in quanto la parte individuale di studio online la puoi fare a casa o all'università e quindi decidite tranquillamente quanto tempo dedicare allo studio. Inoltre questo corso prevede una sola lezione alla settimana e questo è vantaggioso soprattutto per coloro che sono già molto impegnati per motivi di studio e di lavoro. Anche tu Francesco hai frequentato lo stesso corso di inglese blended insieme a Luisa. Ci puoi spiegare in pratica a cosa ti dedichi quando studi individualmente sul PC e invece a quali aspetti dedicate più attenzione in aula? Seguiamo un programma di autoapprendimento online che è basato sullo studio di grammatica, dizionario ed esercizi di ascolto. Mentre in classe fondamentalmente ci occupiamo di curare la conversazione che è fondamentale per acquisire maggiore spontaneità nella comunicazione. Abbiamo sentito che gli studenti sono molto soddisfatti di questa esperienza, ma come saranno i risultati raggiunti? Andiamo a sentire il parere di un docente del Ciel, Andrew Hunt. I risultati dipendono di quanto uno si impegna a casa, però abbiamo visto che la conversazione si migliora tanto perché in classe dedichiamo tanto tempo nel parlare, speaking. Finisce qui il nostro breve viaggio alla scoperta dei corsi blended proposti dal Ciel, il centro interfacoltà per l'apprendimento linguistico dell'Università di Trento. Se desiderate saperne di più potete contattare il Ciel in via Verdi 8 a Trento al numero telefonico 0461 88 34 60, la mail cial.unitn.it, il sito internet portale.unitn.it. Tietano porti diversi Schwabella.undit! Grazie per la visione!